Dalle prime ore della mattina è in corso una vasta operazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno nel territorio della città di Cava dei Tirreni. Circa 200 militari con il supporto di unità cinofile stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dalla GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Ristruttuale Antimafia nei confronti di 11 indagati, tutti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a traffico e spaccio di stupefacenti ed ulteriori 10 decreti di perquisizione locale messi a carico di altrettanti coindagati in stato di libertà.